Zauri Cesare Arriva il traversone, Rocchi in anticipo Tommaso Rocchi, 1-1 Be gol, bellissimo Guarda la prima volta, Cesare sul fondo a puntare l'uomo, a mettere dentro un cross fatto veramente molto bene forte e teso, i difensori da Roma si sono troppo fermi quindi invece devi marcare, devi stare attento a Rocchi che ha fatto il movimento di un contro molto bene e ha incrociato la palla un bellissimo gol 2 gol in 3 derby per Tommaso Rocchi che certo meglio di così